ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video ebbene sì un'altra puntatella dedicata a voi che state guardando con i vostri video alle vostre collezioni di orologi mi raccomando quando fate un video inviatelo realizzatelo possibilmente in orizzontale perché mi sta arrivando molti in verticale ora io mi spiace quasi non pubblicarli quindi magari farò cercherò di fare anche una piccola no una piccola eccezione alla regola certo che se non sono interessanti e sono in verticale proprio l'eccezione non viene fatta quindi cercate di farli orizzontali poi inviare indirizzo e mail che vedete qua in sovra pensione e io poi di pubblico e ricomentiamo tutti assieme e riguardiamo e ci facciamo due culture risate barra no perché insomma tutto fa brodo tutto fa brodo ok oggi prima di mostrarvi di iniziare con i video e vi faccio vedere l'orologio del giorno che oggi è il mio nuovo acchiappone è il mio nuovo acchiappone stupendo orologione si tratta del bright link ronomat gmt eccolo qua un orologio con il suo bracciale come si suol dire bracciale che è diciamo iconico è l'orologio quello lo vedi lo riconosci lontano miglio lo vedi no non fanno nemmeno le copie che io ne sappia poi vedrai che questi paganoni design o questi corgiossi cominciano a fare anche le copie di questi bracciali qua ma questo dobbiamo aspettarci però io ho l'originale il bright link ronomat gmt che poi tra l'altro è uno di quegli orologi che all'interno non è che ci abbia un calibro esclusivo c'ha letta 28 93 il gmt basato sul 28 92 quindi no ero orologio costoso con calibro di fornitura esterno certificato cosco tutto bello preciso tutto quello che vuoi ma di fornitura quindi a dimostrazione che se un orologio è bello è bello e anche se c'è un calibro che non è esclusivo ma che cosa me ne frega a me mi piace l'orologio detto questo passiamo al primo video dai primo video vai andiamo ciao davide sono elena la ragazza come vinta e mando questo video per farti vedere un nuovo arrivato della collezione per chiedere un consiglio alla community eccoci qua un bolova snorkel 666 in referenza del 1968 69 anche chiamato devil diver l'ho trovato a un mercatino pochissimissimi segni di usura bracciale originale bolova bello allora tere quella la ragazza che ama i vintage non ricordo il video no e qua ancora una volta la dimostrazione guarda che chicca che ha preso il mercatino chiaramente è di piccole dimensioni lo si vede quindi una ragazza anche un po più fortunata volendo perché tutti quegli orologini piccoli che facevano lì vintage negli anni 60 e a lei stanno a pennello sul polso no quindi c'è anche un pochino più di fortuna diciamo però è un bell'orologio bello tenuto bene una casa la cassa così sagomata io non l'avevo mai vista non l'avevo mai vista prima volta che la vedo con questa sagomatura così spigolosa bello dai fondello a vite il quadrante in questa bellissima cassa cuscino tipica degli anni 70 che a me piace molto molto squadrata quadrante bianco con questa croce rossa che va in contrasto con gli indici e le sfere che una volta erano illuminate al trizio cambio rapido della data corona originale un bello orologio tiene bene il tempo sono molto contenta perché come ti dissi anche l'altra volta sono appassionata di diver oggi ho il pro master appassionata però appunto anche di orologi con dimensioni contenute non mi piacciono non mi piace sfoggiare orologi troppo grandi per il mio polso e quindi appunto mi diletto qui vintage brava ti mando questo video anche per un po' non lamentela per chiedere un consiglio quando l'ho portato a fare la revisione me l'hanno restituito purtroppo con la ghiera che si era completamente bloccata e mi ero accorta tra l'altro che il dot qui il triangolino sulla su questa bellissima ghiera in bachelite purtroppo si era scrostato la sostanza luminosa era in parte andata via loro non si erano raccolti quando me l'hanno restituito e che mi ha lasciato anche un po' perplessa gliel'ho appunto ridato per perché lo sistemassero mi hanno detto che effettivamente durante la pulizia probabilmente era entrato qualcosa tra il quadrante e la ghiera che era andato a scrostare il dot gliel'ho restituito chiedendo appunto che mi facessero sapere come preferivano procedere se c'era un modo di sistemare un po' la cosa quantomeno a livello estetico non ho più ricevuto notizie per due settimane chiamo per sapere a che punto erano e mi dicono che stiamo aspettando il pezzo di ricambio cioè in pratica avevano deciso spontaneamente di sostituire la ghiera di un orologio che comunque era tutto originale senza dirmi niente al che mi sono incassata parecchio anche perché è un orologio che comunque insomma non è che sia poi così diffuso non so quanto mi ero proprio fatto aspettare per una ghiera e poi per quanto sia un orologio di non poi così pregio prima di sostituire un pezzo magari è il caso di avertire il cliente mi sono molto molto arrabbiata mi hanno restituito l'orologio non mi hanno fatto pagare la revisione mi hanno restituito addirittura i soldi per cui se non altro da questo punto di vista sono stati molto onesti però appunto purtroppo io mi ritrovo senza orologio perché già un paio di volte ora io questa situazione qua non lo so perché errare è umano è ora ti metti anche nei panni dell'orologiaio e qualche qualche volta gli può scappare il danno però il fatto che non lo abbiano consegnato con la ghiera inchiodata e con il dot scomparso presuppone una leggera malafede magari no ma tanto speriamo che non se ne accorge no tanto magari hanno pensato è una ragazza ci capisce una minchia di orologi no tra virgolette sarà sai che la ghiera deve girare poi sono beccati la telefonata di te che gli fai il cazzetone che gli dice ma come vi permettete di cambiare un pezzo che era originale con uno e gli è crollato il mondo addosso cavolo le qua ci capisce hanno detto no si è fatta valere ora però il discorso del pezzo di ricambio bisogna devono avvisarti prima no avrebbero dovuto spiegarti il tutto ma se il pezzo di ricambio per esempio è originale un altro orologio un altro bulova di questo tipo qua da cui lo prendono oppure proprio originale per assurdo no nuovo di fabbrica ci sta anche io me lo sarei fatto mettere quella ghiera nuova se invece un aftermarket una copia una qualcosa di allora no però si dovevano avvisarti prima è una brutta situazione questa spiazze come si suol dire erano scessi altri disguidi e quindi mi sembra proprio il caso di cambiare quindi da qui la domanda c'è magari qualcuno qualche appassionato amico del canale che mi può consigliare un orologiaio zona padova io abito padova centro ma sono disposta anche a fare un po di strada che possa fare il caso mio grazie un saluto a tutti ciao 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 l'appello è lanciato se qualcuno in zona padova conosce un bravo orologiaio però io non ho capito cosa intendi fare per sistemarlo cosa può fare sul dot della ghiera un orologiaio si mette lì la dipinge ci manca non ho capito non è che conviene cercare un pezzo coevo cioè di quegli anni lì del 69 di un orologio del 69 prenderlo e metterlo lì sopra qualcuno che non ha una ghiera che è avanzata dal 69 ha senso quello è pur sempre un pezzo originale e coevo di quel certo non vuoi prendere su aliexpress una ghiera che assomiglia e gliela metti non fai quel garbo di però ripararla sistemarla a quel punto di sostituirla te la sostituivano anche quegli altri non lo so tanto voi amici lasciate i commenti su qua sotto e scrivete l'orologiaio di padova migliore è boom 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 poi lei deciderà perché mi sembra che si sa far valere non è una sprovveduta brava 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 Elena Elena brava aspetto altri video da te ciao prossimo video ciao davide ciao simone da roma simone iniziamo dal magico casio che tutti hanno in collezione questo mi è stato regalato all'età di dieci anni per la comunione e come ben vedi lo uso praticamente un giorno sì e l'altro no calcolando anche che dal 2010 non gli è mai stata cambiata la batteria e ancora viaggia quindi in questo caso la batteria non è stata mia nemica ma pensate il mio il mio è morto cioè gli è morta la batteria l'avevo comportato due tre quattro cinque anni fa non mi ricordo la batteria gli è morta poi lo sapete cosa ho fatto ho votato via calibro e display nella spazzatura e mi è rimasto lo scheletto dell'orologio qualche giorno ve lo mostro come l'orologio del giorno metto il mio casio senza niente e te sei stato fortunato la batteria lì è stata tua amica ma non pensare che andrai lontano perché prima o poi lei ti tradisce lei ti tradisce prima o poi ti tradisce e allora saranno dolori toglila perché se la lasci dentro fa l'acido è acidula poi per non farmi mancare il ciofeca alert ti faccio vedere questo daniel wellington che mi hanno regalato i miei amici al diciottesimo pensando che fossi un appassionato di ciofeche in realtà poi gli ho spiegato che sono un appassionato di orologi ma come si fa però l'ho portato per qualche tempo perché comunque sia certo un regalo è sempre un regalo e non penso che me ne separerò per per il valore affettivo giusto così giusto così dopo di che ho iniziato ad appassionarmi al mondo dell'automatico e del manuale insomma i meccanismi meccanici che mi piacciono tanto anche dal punto di vista tecnico dato che studiando ingegneria meccanica mi appassiona molto anche la parte tecnica del funzionamento dei meccanismi e ho voluto iniziare con qualcosa di semplice a buon mercato ma che mi permettesse di sondare questo mondo in particolare ho trovato qui vicino casa un ragazzo che vendeva a causa delle piccole dimensioni per il suo polso questo bellissimo seiko 5 sport diciamo explorer pagato pochissimo perché il ragazzo sicuramente se ne voleva liberare in modo veloce per comprare un orologio più pataccone per il suo polso veramente enorme devo dire e che mi è arrivato senza nemmeno un graffio anche se magari adesso si nota qualche imperfezione dato dal fatto che questo è il mio abridi watch per il mio compleanno due anni fa mi sono poi regalato questo pro master non ci sono presentazioni da fare per un orologio che comunque sia è nelle collezioni più o meno di tutti lo porto veramente con soddisfazione nelle giornate in spiaggia e spiaggia bravo poi passiamo a l'ultimo mio acquisto un orologio che probabilmente conosce anche tu certo questo lanco deluxe mod 11 un orologio con un quadrante annido d'ape che a mio parere è spettacolare per il tipo di lavorazione che c'è stata fatta e soprattutto abbastanza unico veramente non si vedono tanti pezzi di questo tipo in giro nell'orologeria anche e soprattutto moderna secondo me bello bello purtroppo la corona non è una corona originale perché mi diceva il mio orologiaio che a quell'epoca veniva usato spesso cambiare le corone con queste più lunghe più corte insomma soprattutto dagli orologi qui a roma veniva fatto come si dice in bell'accrocchio ma a dire la verità è così dappertutto cioè perché era normale cioè doveva anche immedesimarci in quel periodo e in quello tessuto sociale ok gli orologi erano necessari ogni persona aveva un orologio più o meno di pregio no proprio come strumento personale per leggere il tempo per gli appuntamenti per vedere che ore sono per qualsiasi cosa per lavorare quindi spesso il cambiare la corona era visto come è un materiale di consumo no lo levi lo butti via ci mettiamo questa qua di fornitura va bene anche più grande così ti torna meglio sì sì mettici quella lì a nessuno interessava che fosse della stessa anzi che magari costava di più e doveva aspettare anche del tempo no quindi mi dici quella lì economica che torna meglio va bene sì perché la corona è era anche ora dovrebbe essere così uno di quei componenti che si usurano più facilmente no gira specie carica manuale gira 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 e poi dopo gli girano all'orologio e ti lascia a piedi perché anche la corona è un po' un fingarda quindi mettevano quelle lì non ci dobbiamo fare non ci dobbiamo sorprendere più di tanto se troviamo dei longin degli omega con la corona cambiata era così fortuna invece quando troviamo quella originale messa lì unica pecca questa estetica questa crepa sul vetro che verrà sostituita con la corona originale appena avrò qualche soldo da parte bravo questa è l'eredità l'ascito insomma momentaneo del mio nonno materno che tuttora utilizza altri orologi ma intanto mi ha lasciato questo bello che è un poliot in cassa stursmanski se non sbaglio 31 33 pronografo russo molto visto in giro anche se in particolare in questa configurazione non ne vedo tantissimi e da quello che mi dicono è un orologio anche di buon valore collezionistico e soprattutto come vedi è l'orologio che usava mio nonno che è un falegname tutti i giorni durante il lavoro quindi sono molto affezionato a un pezzo del genere in quanto mi ricorda veramente tanto le fatiche che ha dovuto fare per mettere in piedi insomma la nostra famiglia e bravo geppetto l'altro nonno che purtroppo non c'è più diciamo che si dedicava più al gioco d'azzardo che al lavoro duro e quindi ha pensato bene un giorno durante una partita a poker di dar via il suo meraviglioso submariner nero per questo longin che un occhio abbastanza attento può decretare che sia un falsone falsone anche abbastanza brutto se devo essere simpatico ascolta io da qua si vede che la poca competenza no è o d'altronde scusate se non me l'avessi detto te io non non l'avrei riconosciuto come un falso perché non vedo niente di eclatante di strano ok cioè per me poteva anche passare come un pezzo pezzo originale sì vedi il vetro un pochino così opacizzato poi d'altronde lo vedo da dall'immagine mi posso anche giustificare io lo vedo dalle immagini te ce l'hai in mano e sai bene di cosa stai parlando e sono due cose differenti però così di per lì io l'avrei anche traverete avrei anche detto bello orologio punto senza accorgermi che è un falso sì ho visto che la corona c'è anche scritto longin volendo è però è veramente spiallata uno dice è il tempo magari i colpi l'usura è sepiallata hai capito ti mi dici che è falso io prendo per buono che è falso perché altrimenti non ci sarebbe arrivato assurdo devo dire la verità c'ero questo vetro tutto appannato non rende giustizia a quello che dovrebbe essere effettivamente uno jean lo tengo per un motivo specifico questo è il mio monito per il futuro e il mio obiettivo è quello di comprare un longin che effettivamente sia originale e che sia essenzialmente la copia originale di questo qui cioè questa è la copia di quello originale ecco insomma vorrei ricomprarmi l'originale uguale a questo per poi tenerli tutte e due questo è in memoria del pericoloso gioco d'azzardo che può insomma far fare brutta scelta alle persone e quello vero comunque sia perché sono affezionato al pezzo perché comunque lo ricordo al polso di mio nonno la mia domanda è qual è effettivamente la referenza a cui si ispira questo falso io leggo L990 che se non erro dovrebbe essere l'ultimo calibro prodotto in house dalla longin mi puoi dare qualche informazione in più mi puoi dire a quale modello più o meno si rifà questo nel caso ti ringrazio allora facciamo così siccome qua c'ho il computer c'ho internet io non ho idea non l'ho mai visto un longin fatto così infatti per quello che ti avrei detto è bello orlogio facciamo la ricerca naturalmente faccio dettagli ora faccio la ricerca su internet no ecco scrivo la prima cosa che scrivo è longin L990 e poi guardo le immagini e vediamo se ci arrivo ora ci saranno dettagli allora qua abbiamo delle brutte notizie per te l'ho trovato ho trovato l'orologio basta fare una ricerca no chiunque la può fare perché vedete non sono onnisciente faccio le ricerche e poi come le faccio io le potete fare anche voi però no l'ho trovato allora la brutta notizia è che è un'edizione limitata adesso andiamo a vedere nelle immagini qua c'è un simpatico immagine dove dice guardate eccolo qua limited edition a 990 pezzi per il trentesimo milione di orologi prodotti da longin ok poi andiamo a vedere in questa fotografia qua vediamo che c'è il movimento l 990 di longin fatto da le mania perché erano consorziati in quel periodo lì no le mania era entrata ormai con in quei gruppi in quel giro lì diciamo allora è stato fatto in 90 290 esemplari di cui 390 orologi in oro giallo 300 in oro rosa in oro bianco e 300 in oro rosa quindi 990 pezzi sappi che qua mi dice 1750 franchi svizzeri quindi non so di quando è questo annuncio qua chissà di quando è ma adesso ho come l'impressione che sia un pezzo così raretto farai anche un po fatica a trovarlo tra l'altro questo qua è un quadrante bianco il tuo è un quadrante nero non lo so se ci sono diversi quadranti o se l'hanno fatti tutti bianchi eh comunque è un bello orologio mi piace anche a me mi piace il fondello è quello qua con la sua bella clessidralata l'interno del fondello quello lì all'interno del fondello guardate che bella che bella incisione che c'è ragazzi trentesimo milione longin watch longin manufacturer 990 pezzi questo qua è l'89 su 300 di doppio white twin barrel calibro doppia doppio bariletto ah che bello bello orologio però se lo vuoi devi come si suol dire spendere dei soldoni andiamo avanti col tuo video adesso eh dai e niente qui sotto ho lasciato anche la collezione del mio fratello più piccolo che segue un pochettino le mie passioni e ci scambiamo opinioni bravi con il suo sector expander che anche a lui hanno regalato alla comunione eh orologino simpatico simpatico anche questo a batteria a batteria simpatico come anche questi altri due citizen questo gli è stato regalato dai miei genitori per i 18 anni carino da citizen ecodrive ecco giù abbastanza carino abbastanza elegante bel quadrante blu mentre questo gli è stato regalato adesso per la sua cresima sinceramente ho consigliato io di cambiare un orologio che gli avevano preso eh con questo qui che devo dire che mh è un orologio che non lo so ha ha delle forme abbastanza interessanti ma sì questa cassa leggermente squadrata eh questo quadrante con questa trama mh a veneziana quasi a veneziana veramente veramente carino non non mi dispiace no un orologio sportivo carino dai passiamo oltre e poi per ultimo questo è il regalo che gli ho fatto io bello questo per insomma per il suo diploma e il suo ingresso all'interno delle forze armate lui adesso fa parte dell'esercito ed è questo bellissimo orient in colorazione verde e nera con questo quadrante soleil verde che non so se dal video rende ma veramente dice la sua è Kamasu 23 2023? per ultimo ti volevo far vedere questo questo piccolo orologio questa chicca che ho preso per la mia ragazza e che le regalerò adesso al suo compleanno fra poco è un mati un orologio che non conoscevo sinceramente che ho trovato su ebay ad un prezzo relativamente basso molto carino molto elegante placato in oro tutto completamente originale praticamente nos unica pecca un piccolo problema sulla lancetta dei minuti che è un pochettino rovinata detto ciò ti ringrazio grazie a te grazie mille per la compagnia che ci fai con i tuoi video da guardare in tranquillità un saluto a te un saluto a tutti gli amici del canale rock ciao dai una bella collezioncina dove hai il promaster va bene quella anche vintage che è veramente notevole e il cronografo palliat che secondo me è la punta di diamante è quello che è del nonno tra l'altro che è più interessante un cronograffino di 31-33 come calibro ha sempre il suo perché poi anche come aspetto come stile è molto 70's ci piace quello lì ci piace da dimenticare il Daniel Wellington e poi il resto gli origini di tuo fratello bello è Camaso che gli hai regalato hai avuto un buon gusto prossimo video ciao Davide sono Tommaso sono un appassionato da circa un anno e mezzo e ti seguo da circa un annetto trovo tutti i tuoi video particolarmente terapeutici rilassanti e voglio mostrarti la mia collezione che ho iniziato a mettere giù allora partiamo dal primo acquisto con cognizioni di causa questo Seiko 5 Sport 40 mm molto efficace simpatico quadrante nero molto versatile come Daily Watch ma abbastanza preciso insomma a movimento basico molto brutto brutto il cinturino in gomma che gli hai messo cioè sembra un tappetino di quelli no delle scale poi grigio ma non ci sta bene un nato un cuoio questo quello di gomma grigia che lo spegne proprio tutto dritto e con queste con la stampa pneumatico sopra così no ti spiace a te siamo tutti contenti a meno però comodo il secondo che voglio mostrarti è questo Vostok Amphibia 2020 è piuttosto incombrante perché sul mio polso soprattutto questo spessore questa dimensione con la corona bella presente si fa sentire perché con la corona arriviamo a 44 mm ho capito ma non conto è tuttavia un bel quadrante attira l'attenzione è piacevole la vista ed è anche un movimento piuttosto preciso nonostante sia molto basico allora perché dici i gombranti non lo so perché è un 40 un 41 ce l'avevo anch'io io ce l'avevo il quadrante blu l'avevo scelto perché è senza data quindi non devi stare a tribolare a mettere la data ogni volta niente data perché questi qua non hanno la rimessa rapida della data e poi con i numeri arabi lungo tutto il bordo era bello leggibile blu io avevo fatto una modifica e gli avevo messo la ghiera aftermarket presa su ebay cosa evitabile ma mi sono voluto divertire tanto costava poco a quei tempi 70-80 euro adesso col piffero che lo pigli a 80 euro ti mostro poi questo swatch attenzione ai deboli di cuore perché si è piuttosto pesantino come come sguardo come estetica però è automatico ah beh è del 93 era di mia madre che lo ha abbandonato per altri orologi e pensavo dicessi che lo ha abbandonato sull'autostrada l'ha legato lì invece no e non si vede molto non gode di ottima leggibilità come si può vedere dalle immagini però ogni tanto lo indosso mamma mia sia proprio bellissimo eh no e ti mostro poi questo cos'è? Pulova Wilton GMT automatico monta un Miota serie 9000 quindi lo trovo piuttosto preciso poi avendo delle alte alternanze è anche più piacevole la lancetta di secondi quando gira è più fluida lo trovo si e mi è stato regalato per la laurea so che non è il tuo genere però è comunque molto confortevole e qui siamo sui 43 mm minchia 43 mm un orologio tutto quadrante va bene ci sta contenti voi contenti tutti bello interessante non mi piacciono i numeri romani messi così GMT calibro della serie 9000 della Miota è uno dell'ultimo hanno fatto anche loro il calibro GMT su base 9000 quindi è abbastanza recente bello orologio che ha il suo perché a me non piace non lo vorrei neppure regalato però è bello e ti mostro poi passo ai vintage vintage primo che ti voglio mostrare è questo Eberhard degli anni ecco che ho messo a fuoco degli anni che furono degli anni 40-50 mi è stato datato e è un modello da donna con anse fisse in cui io ci ho inserito questo cinturino nato e tiene bene il tempo nonostante gli anni che ha è molto molto simpatico molto piccolino con tanta champagne il secondo che voglio mostrarti è questo Milus sempre vintage fabbricazione svizzera e l'ho acquistato per pochi euro ad un mercatino immagino mi piaceva questo colpo d'occhio nero assoluto in contrasto con la placatura oro è meccanico e il fondello non è il suo però il movimento è originale questo brand produce ancora orologi nonostante il risulti sia semi sconosciuto ecco di questo modello in particolare non ho trovato informazioni in rete per forza e l'ultimo acquisto vintage che è stato questo Hellas Junior si ispira chiaramente al tank di Cartier però mi piaceva che avesse una sua comunque personalità con il colore con la tonalità di quadrante vetroplastica movimento meccanico l'ho acquistato pensando fosse un quarzo mi sono accorto solo una volta a casa che in realtà nascondeva un bel movimento meccanico si per ora cioè io a vedere questo orologio qua mi viene in mente no ma è necessario questi acquisti sono necessari questi acquisti compulsivi dettati dalla voglia perché vi capisco anche a me mi capita di essere in giro vederlo la brama del possesso lo si vedono lontano un miglio che questi orologi qua sono economicissimi cioè proprio lo vedi che le finiture sembra quasi plastica il quadrante completamente stampato il fondello di quell'altro non era il suo la corona qua spicca fuori il cinturino qua sembra addirittura tagliato forzato cioè anche il vetro lo vedo un po' inclinato ora a parer mio questi qua sono quegli orologi che poi vanno a finire nel cassetto delle ciaffrosaglie ovviamente dove tieni il tagliaunghie il caricabatterie avanzati per i telefoni passati una lampadina e poi questi orologi qua messi lì così vanno a finire lì così ha senso o forse è meglio fermarsi un attimo e poi con quei soldini lì metterli da parte e prendere qualcosa di un pochino più concreto che poi andrai veramente ad indossare ad utilizzare piuttosto che questo solo per il gusto di averlo comprato di averlo di possederlo io lo dico così senza polemica NOS il cinturino non è suo che sarà il primo che cambierò prossimamente e prima di chiudere in bellezza volevo mostrarti volevo mostrarti questi queste ciofeche perché è giusto che ognuno abbia le sue ciofeche te li mostri in serie Bulova ma no Time Force questo Bulova poveretto è stato chiuso in un armadio per circa 15 anni ed è stile diver ma resistente solo a tre atmosfere nonostante abbia la corona a vite quindi ottima qualità si potrebbe dire sì quello sia ovviamente quarzone e dopo questo Time Force un altro quarzone neanche ad acciaio perché penso sia ottone e ultimo ma non ultimo questo swatch edizione Mondrian che mi è stato regalato anche questo è bello questo che è un bel rumoroso un bel rumoroso e scricchiola anche il cinturino è bello è design quando lo lo giro ragazzi gli swatch vanno interpretati come oggetti di design ok oggetti di design non è che è l'orologio di pregio con il quale andare alla messa alla messa sono oggetti di design infatti anche il mio amico Piero cosa fa li prende c'è quello con con gli anime con dedicati ai cartoni animati dedicati al al pittore contemporaneo sono oggetti di design vanno vanno collezionati proprio questo è uno di quei momenti nei quali la collezione ha senso collezionare swatch orologi plastiche con uomini al quarzo automatici quello che ti pare però averli lì è questo sono oggetti di design niente di più niente di meno io non mi non mi scandalizzo quando vedo questi non li vorrei non li compro non ci spendo i soldi per uno swatch non mi interessa farne la collezione altre persone sì però dire che non ci offreca no e concludo mostrandoti questo cos'è mostrato inizio video è il mio pezzo migliore ed è il cronomat automatico ed è il 2000 e non ha mai fatto un service una revisione vanno orgoglioso lo trovo molto molto bello dimmi cosa ne pensi tu e cosa ne penso ha un quadrante Vitesse che con questi numeri racing possono piacere o non piacere però il punto di blu è veramente particolare perché in base alla luce diventa grigio o blu più intenso acciaio oro bracciale originale bello usatino bene io ho concluso ti ringrazio e love a tutti love a tutti love a tutti è chiuso col botto perché quel Breitling cronomat cronografo da non confondersi con il cronomat gmt è veramente bello a me non piace non piacciono solitamente i numeriari mi piacciono sul cronomat no non mi piacciono anche perché sono Vitesse perché sono messi inclinati per simulare la velocità hai capito no non mi piacciono sono un po' troppo invadenti lo preferisco senza numeri numeri arabi però come lo preferisco io come vuoi come non vuoi è un bello orologio un signor orologio che vorrei anche così dai diciamo la verità dipende quanto c'è da spendere se devo spendere dei soldi lo scelgo in un'altra configurazione però è bello dai tutto promosso tutto promosso anche lo swatch dai prossimo sera Davide mi chiamo Loris ti presento la mia collezione dalla provincia di Bologna Bologna il primo è un Orient skeleton ovviamente movimento basissimo è un orologio molto base ed economico ma sì con fondella vista carica automatica bellino tutti i cinturini che vedrai sono stati sostituiti perché io ho un polso da 24 quindi li devo sostituire per forza 24 ora passiamo alla Russia un Comandinsky che ho comprato perché lo regalerò a un mio nipote è un 34 mm di diametro ma sì carica automatica bravo il secondo volevo un 24 ore sempre Russia ma non volevo un GMT quindi ho trovato sempre un altro Comandinsky col quadrante in 24 ore oltretutto a 200 metri di profondità sì simpatico 24 ore ora passiamo alla marca a cui mi sono affezionato negli ultimi anni che è Mondia come immagino tu sappia faceva parte di Zenit adesso è gruppo sordi quindi italiana questo è a fondo blu è un 44 mm carica manuale fondella vista e dovrebbe montare un SV200 un sellita come un SV200 mi sembra manuale come fa essere SV201 sarà va bene comunque bello e non può essere SV201 perché se è 44 mm la cassa quel calibro lì la occupa tutta dal fondello non è l'SV201 o mi sbaglio lo riguardiamo un secondo ma secondo me sto qua non è un sellita boh o mi sbaglierò io cioè guardate come grazie secondo me sembra non lo so non lo so dai va bene dai prendiamo per buono che è un sellita vai sempre di mondia sempre 44 mm fondello nero giorno scritto in data e in caratteri mi è piaciuto tantissimo come orologio lo porto molto questo è solo carica automatica e fondello a vista eh vedi come è più piccolo boh ti chiedo un'info sul prossimo orologio che è la marca è Mercury il modello si chiama Dodegon è una marca svizzera che però non conosco monta un sellita SV221 ti chiedo visto che è un orologio in oro rosa non l'ho mai portato perché non ho ancora trovato l'occasione oro rosa ti chiedo se tu hai qualche info da darmi su Mercury se la conosci no grazie no 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 mi spiace il prossimo orologio a cui sono molto affezionato ed è l'unico quarzo è un sector cronografo è la versione 650 perché l'ho comprato esattamente a 18 anni esattamente 20 anni fa fondello in carbonio e ancora oggi funziona benissimo quadrante in carbonio l'ultimo è un regalo della mia compagna sia io che lei siamo appassionati di orologi da tasca e quest'anno mi ha regalato questo bellissimo Mondia proprio perché mi sto affezionando la marca che ricorda i per seo degli anni 70 e mi piace tantissimo anche questo carica ovviamente automatica e basta questa qui è la mia piccola e modesta collezione bravo grazie mille ti do un buon saluto ancora complimenti per il canale grazie grazie mille è una collezione simpatica ti stai avvicinando al Marchio Mondia con orologi decenti anche se dovrebbero da quello che so io dovrebbero iniziare a fare nuove collezioni nuove realizzazioni un pochino più personali perché ultimamente quando si andava sul sito web di Mondia si rimaneva un po' spiazzati dalle varie coppie di orologi dei Rolex erano molte coppie no? se intraprendono la strada giusta gli orologi li sanno fare quindi aspettiamo e auspichiamoci che torni in auge anche Mondia prossimo video ciao Davide ciao prima di iniziare a farti vedere la mia collezione volevo darti un top te lo meridi grazie te lo meridi per il canale la trasmissione continua continua così non ho badato a spese naturalmente per gli effetti speciali quindi iniziamo con gli orologi speriamo allora i primi orologi sono dei quarzi ripwatch caribbean blu elegante con questo quadrante appunto blu è molto elegante bellissimo il bracciale maglia piene come si può vedere e anche stupendo il fondello col barracuda Tissot un altro quarzo cronografo e anche qui abbiamo un bracciale che è stupendo per me con la con la sigla dell'attio di Tissot qui con questo bracciale bucarellato maglia piene bello pesante un bel cronografo boh anche se è un quarzo quarzo di qualità qualità in un'anti con un ecodrive citizen ecodrive titanio l'ho utilizzato molto con mezz'ora di luce solare va avanti per giorni devo dire ora non diciamo che non mi piace più come stile come orologio l'utilizzo molto poco ma è stato uno di quelli che ho utilizzato parecchio un morpied di una gioielleria di Firenze che ho acquistato a Firenze in un viaggio oro 18 carati minchia riprende le linee del riprende le linee del Rolex del The Date però è bello è elegante e fa la sua figura io morpied non lo conosco gli ho dato il Ciofec Alert proprio perché non lo conosco perché non come si fa io mi domando come si fa a comprare un orologio al quarzo completamente in oro di un marchio sconosciuto alla fine se sto qua dovessi venderlo ti conviene fondere la cassa la cassa d'oro e vendolo al compro oro perché nessuno ti dà il valore di un orologio morpied al quarzo perché in oro l'abbiamo preso io un orologio al quarzo di un marchio così lo concepisco proprio prenderlo con il minimo della spesa possibile quanto l'hai pagato 60 euro è uno sfizio che mi volevo togliere al quarzo lo uso quando sono a zappare va bene se lo prendi d'oro al quarzo d'oro significa che lo vedo stare in occasioni particolari adatte sinceramente va bene sono io che non comprendo non è colpa tua colpa vostra sono io che sono differente però la ciofeca glielo ho dato l'unica pecca è un quarzone quindi però è stato prodotto in serie limitata solo i 100 pezzi ma solo i 100 pezzi mica perché è limited edition perché così si crea l'hype 100 pezzi perché hai detto speriamo che ci sono 100 che lo comprano capito perché se ne facevano 101 non li comprava nessuno capito hanno sperato di arrivare a 100 speriamo l'avranno anche venduti ci sono andato di 100 persone che hanno comprato un morpie al quarzo d'oro tutti contenti felici un tisso cronografo cronografo automatico questo qua è il tisso couturier una volta anch'io lo guardavo allora l'ho avuto il tisso couturier l'ho avuto ma il quarzo ha avuto il quarzo del tisso 360 euro l'avevo pagato poi l'ho rivenduto a 250 insomma questi sono quegli sfizi che uno si toglie è un passant così e l'aspetto era più o meno questo questo qua invece è automatico e monta il calibro c 0 2 1 età non mi ricordo la sigla che però è derivato dalle magna 5100 perché c'era o c'è credo che sia ancora a catalogo questo couturier c'è anche la versione che però quella non c'è più la versione con eta 7750 e quella la riconosci dal day date rettangolare questo qua tondino così solo data e le mani a 5100 modificato impoverito diciamo perché qua lo scappamento e l'ancora sono in plastica sono in plastica qua niente di scandaloso perché ti so proprio nei secoli dei secoli diciamo dagli anni 60 in poi ha sempre avuto la tendenza di innovare per quanto riguarda forme materiali e anche i materiali nei calibri capito quindi al giorno d'oggi ti so continua questa tradizione utilizzando lo scappamento e l'ancora in plastica cioè se ci pensate bene non è molto differente dall'autolube il calibro tutto in plastica o da quando utilizzavano certe parti in plastica certe casse in fibra l'hanno sempre fatto è la mission di ti so allora come oggi quindi è inutile che ci scandalizziamo dire ma c'è lo scappamento in plastica è così c'è lo scappamento in plastica è la mission di ti so è la sua identità come Rado fa le casse in ceramica loro fanno parte del movimento in plastica se non ci piace non lo si compra è buono 15 rubini riserva di carica 45 ore vetro zaffero fondello a vista mamma mia che brutto mezzo fondello a vista diciamo vetro zaffero spessore impegnativo quasi 15 mm però stupendo con l'AT di ti so per mia abilità 100 metri 43 mm di diametro continuiamo con l'orologio per eccellenza estivo citizen pro drive come pro drive citizen pro drive il citizen è pro master hai fatto un mix tra pro master e eco drive il citizen pro drive dai te lo perdoniamo vai full loom come il tuo solo che io non ho il physique du roll per permettermi il cinturino giallo fluo mi ha compito del suo originale che dire di questo subacqueo perfetto per l'estate ecco Vostok Comandinsky nero Comandinsky al quale oh c'avevo anche questo ah anche questo Comandinsky qua ce l'ho avuto ed è uno di quelli più interessanti perché se ora voi guardate quando lui lo farà girare ancora un pochino ah la cassa in acciaio satinato ma solitamente questi orologi russi qua ce l'avevano cromata la cassa cromata o se no se è d'acciaio è lucido questa qua c'è una satinatura da fare invidia a orologi di livello superiore perché io l'avevo pagato anche questo poche decine di euro si prendevano con un'avanciata con un pugno di dollari e adesso invece ho fatto questo cinturino Tropic ho adattato questo cinturino Tropic anche il Comandinsky molto bello devo dire mi utilizzo a mare mi piace davvero tanto come orologio da battaglia per tutti i giorni consiglio a chi non è uno di prenderlo Glysin Combat Sub 39 mm vetro zaffero calibro sellita sv200 impermeabilità 300 metri stupendo con la manta a fondello l'unica pecca che diciamo non mi piace di questo orologio è il bracciale che secondo me Glysin poteva fare meglio ma con il prezzo di vendita circa 550 euro non si poteva chiedere di più si può sempre chiedere Glysin calibro 284 17 rubini a carica manuale dovrebbe essere tutto originale ce l'ho con me da pochissimo tranne il cinturino ma è logico dovrebbe essere originale ecco anche che dire per me è stupendo bello si casa cucina dovrebbe essere databile intorno agli anni dal 60 al 69 su questo poi successivamente ti voglio fare una domanda ecco è il Rolex Daytona top referenza 16-52-3 cronografo in cassa Oyster questo qui ha una particolarità è il Rolex Daytona Zenit ecco è quello che ha il movimento basato sul calibro Zenit 40-30 che è stato prodotto solamente se non sbaglio in per una decina di anni dall'88 a 2.000 a 28.800 battiti ora pulsanti impermeabili a vita corona ricarica triploc impermeabilità 100 metri guarda che bello questo pacciotti completamente in mamma mia plastica plasticone eccola qua questa fotografia qua ci fa benissimo vedere il quarzetto economico che c'è dentro ci metti un po' di sputtolo lo metti dentro la cassa con una corona con la tigi lunghissima questo qua è l'esempio della ciofeca che davanti i classici sepolcri imbiancati che si diceva davanti tutto color dorato però di plasticaccia cesare pacciotti e poi intorno è tutta una m***a così ho finito dopo questo possiamo chiedere qui ti volevo solo fare una domanda la prima era relativa all'onjin se mi sai dire qualcosa di più sull'anno su questo orologio ecco ha il calibro 284 ecco su questo calibro relativamente a questo orologio dato che so che sei un esperto di longjin se mi sai dire qualcosa in più allora fermo già qua sono esperto di longjin non sono esperto di longjin studio mi informo a tal proposito anche nel mio sito web che è contatorideltempo.it c'è una sezione che è chiamata my longjin passion e lì ho messo la cronologia dei calibri e il numero dei seriali degli orologi di che anno sarà il tuo orologio non lo so di che anno apri sul calibro c'è un numerino vai sulla tabella sul mio sito e lo vedi lo puoi datare da lì oppure se non vuoi aprire addirittura questi qua dal 69 al 70 incominciavano a mettere dei numeri sul fondello dai quali si può anche risalire al periodo io ce l'ho uguale identico quell'orologio lì ma con il calibro anzi andiamo sul mio sito longjin passion poi taglio la ricerca allora eccoli qua siamo sul mio sito web io ho il calibro 285 perché il mio è uguale identico al tuo ma col datario il 284 è senza datario come si vede qua dalle varie specifiche c'è il 280 e il 281 con la data il 280 senza data 281 con la data ma con la con la regolazione a racchetta normale mentre il 284 e il 285 cioè il tuo e il mio avevano la regolazione eccentrica come si vede c'è quella forchetta ad u che va a regolare il calibro poi c'era anche un altro che era il 285 che mi sembra rr no il 285 rr che l'hanno fatto per le ferrovie canadesi era super preciso ma è anche raro trovarlo poi basta andare qua leggere quello che ho scritto io l'ho scritto io ci sono le immagini eccola qua la famiglia di questi calibri vede la luce nel 1958 con il movimento 280 che viene incassato nel noto Longin Jamboree dopodiché viene utilizzato in molti altri orologi fu il primo calibro con secondi centrali diretti realizzato da Longin mi sto leggendo quello che ho scritto io quindi se voi fate la ricerca arrivate lì dove sto arrivando io non capisco perché non avete mai voglia di fare le ricerche fate prima fare il video e chiedere mi racconti l'orologio io te lo racconto ma vado a fare la ricerca come l'avresti dovuta fare te la principale differenza la regolazione della vita eccentrica l'rr 280 dove rr sta per railroad ferrovia è quello sviluppato per le ferrovie canadesi bello 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 vai lì e vedi tutto sul mio sito web contatorideltempo.it e la sezione Longin Passion vado avanti e poi che ne pensi del Rolex del Daytona del Daytona appunto con con movimento Zenith 40-30 se lo consideri migliore rispetto a quello poi successivo con un calibro invece Rolex ciao ciao un saluto no non ho capito la domanda se lo considero migliore rispetto a quello successivo dopo il 2000 con il calibro in house no lo so sinceramente io non so neppure come viene considerato collezionisticamente parlando perché quando si parla di questi orologi qua del Daytona Zenith dopo Zenith ceramica quadrante 6 rovesciato ci sono tutte quelle particolarità collezionistiche che a me non me ne frega proprio una cipa non me ne frega niente di avere di vedere di conoscere questi quadranti diversi lì c'aveva il calibro dello Zenith del primo che Rolex aveva modificato ma non come si dice adesso modificato dalla casa no a volte si vantano e c'hanno un rotore marchiato e basta Zenith aveva fatto un lavoro Rolex aveva fatto un lavorone aveva preso il calibro aveva cambiato il bilanciere aveva abbassato la frequenza da 36.000 a 28.000 aveva sostituito dei particolari all'interno insomma l'aveva veramente modificato a seconda del suo uso e consumo quindi e poi è sempre funzionato bene anche merito di Zenith che se l'ha inventato quel calibro di quello dopo che il calibro in house di Rolex appare il mio più ci si avvicina alla modernità e più le cose migliorano che se ne dica sicuramente i collezionisti diranno no è meglio quello dell'88 perché quello del 92 con la referenza che inizia per a me non me ne interessa niente quindi non so dirti qual è meglio uno o l'altro c'è un orologio un bello orologio che io non vorrei ma goditelo goditelo e non starai a pensare se avessi quello migliore quello peggiore ma ricordati come disse un mio amico che poi conoscete anche sopra un re c'è sempre un altro re quindi è inutile fare la gara ad avere qualcosa di più qualcosa di più la macchina che va più forte a volte uno si mette di trucca la macchina e tanto c'è qualcuno che va sempre più veloci ma quindi che minchia me ne frega prendi l'anzi che abbia delle caratteristiche un pochino che ti si addicono di più e goditela boh dai sono anche andato fuori fuori argomento mi sembra di aver detto tutto non mi resta quindi che ringraziarvi per essere arrivati fino a qua spero vi sia piaciuto il video e i commenti del commentatore ufficiale vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io qui su youtube ma il più spesso possibile la off ciao ciao